Eccoci qua, siamo stati a Brescia, abbiamo lavorato stamattina tutto bene con il mio Maurizio E abbiamo fatto tutto, quante settimane di domenica in abbiamo programmato? Dieci, le prime dieci Dieci, tutto covering, colori pazzeschi, abbinamenti pazzeschi, grazie Mara Venier è tornata da una riunione a Brescia, durante la quale ha pianificato le prossime dieci puntate di domenica in Il suo impegno lavorativo supera Barbara D'Urso, che attualmente licenziata, si trova a Londra per un misterioso progetto segreto Questa dinamica sottolinea l'energia instancabile di Mara nel mondo dell'intrattenimento italiano La sua popolarità e il suo talento la rendono una figura iconica in televisione E la sua dedizione al programma domenicale è evidente Mentre Barbara D'Urso intraprende nuove sfide all'estero Mara Venier continua a guidare il suo show con passione e professionalità Gli spettatori possono aspettarsi un'emozionante serie di puntate future, grazie alla visione e alla leadership di Mara nell'industria televisiva italiana